Filmi in Cagliari per l'ennesimo anno propone una rassegna cinematografica dedicata alla città, perché? Più che una rassegna mettiamo alla disposizione delle risorse per chi vuole girare delle opere cinematografiche che possano parlare della città, quindi diamo la disponibilità di fare un'attività di promozione su Cagliari e dall'altro di creare indotto economico perché significa avere artisti, troupe, maestranze che stanno in città. C'è un bando, ma c'è anche qualcuno che ha lavorato comunque a sé stante per Cagliari, come me o voi gli avete commissionato qualcosa? No, non gli abbiamo commissionato niente, è già fatto una proposta per girare un film che doveva essere ambientato in un'altra città su Cagliari, quindi abbiamo assegnato le risorse della fondazione che sono risorse per iniziative culturali e sociali che hanno lo scopo di promuovere la città e di far ovviamente creare indotto, come dicevo prima, all'interno di Cagliari. Lo scopo? Lo scopo è far parlare di Cagliari.